Santino, hai chiesto questo podio. Dopo la data questa mattina hai avuto un accidente, un crash, e poi cosa è successo? Sì, è molto bene, non è veloce, ma nel ultimo lapso ho avuto un battaglio per la posizione libera, è bene. Hai fatto un'incredibile ultima lapso, sempre guardando dietro te, più di quello che stai guardando in fronte di te. Sì, molto bene. Grazie. Grazie. Grazie.